Buongiorno, sono passato per darvi gli auguri di buon anno, mi raccomando, lo studio è determinante per la vostra formazione e il vostro futuro, quindi impegnatevi, date retta alla professoressa, alla preside e cercate anche di divertirvi perché è un momento nella vostra vita dove il divertimento è determinante. Oggi parte l'anno scolastico, mi raccomando, date retta a tutti i consigli che vi verranno dati dalle professoresse, dalla preside, cercate di studiare perché la vostra formazione determina il nostro destino, il destino della nostra società, voi siete il futuro, quindi dovete prepararvi, ma dovete anche cercare di divertirvi, io sono venuto a scuola qui alla Bindi e quindi gli anni più belli, i ricordi più belli li ho mitenti, però dovete studiare, dovete stare attenti a tutte quelle cose che vi vengono dette. Mi raccomando, buon anno scolastico e ci vediamo alla fine dell'anno. Ciao a tutti, buon studio.